ragazzi ci siamo, vediamo un po' se parte andiamo un po' se tutto va a regolare dai ragazzi ci siamo, buongiorno, buongiorno, buongiorno allora, quest'oggi facciamo una bella cosa cercherò di non urlare per non disturbare nessuno ok, spero che mi sentiate attendiamo un attimino ok, fuori dalle palle se non urlo mi sentite lo stesso a me interessa, ok, questo va bene ok, ok, dovremmo essere, essere, essere chiude tutto a Michael ok, Michael, non fai riuscire i cani stai attento, stai attento lì adesso ah, chiuso? ok, vado a aprire per fuori grazie adesso iniziamo, facciamo un po' di salvo al mondo tu lo devi fare aspetta, bravo ok, ragazzi, ok, ci siamo allora, 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 allora potremmo va? ok allora, cosa dobbiamo? i superstiti abbiamo allora, superiti, potenzio, no, non mi interessa avere i superstiti, comunque abilità abilità abilità, magari, dopo i più piccioli, dopo i più piccoli, no sblocca la prima di scuola di superi scuola di colpa, scuola di colpa, scuola di colpa 110 no andiamo un po' qua allora, dimensioni zaino, zaino più grosso e incremento come si vedete, se poi andiamo su una tempesta, ok buongiorno ragazzi, quest'oggi proviamo, facciamo, fortnite, ma con due cose abbiamo salvo al mondo, non so per quale arcano motivo ce l'ho sbloccato ma noi, giochiamoci, giochiamoci vediamo un pochino come va la situazione eh, dovrebbe andare bene anche le regolature delle facce da cazzo allora, adesso devo, allora, incrementa lo scuola di origine 3.1 allora, dobbiamo, dimensioni dello zaino acquistiamolo, ok e mi sa che acquistiamo anche questo ok tieni ok, ok, perfetto ragazzi adesso cosa facciamo? proviamo a farci una partita prova qui ricompense dammi un 3 dammi un 3 ok ma questa l'ho fatta ok andiamo a fare Michael è aperto? no no, mi devo fare è proprio una parte di una parte di una parte allora andiamo a farci un giro guardate sostanzialmente salva al mondo è simpatico non è chissà che cosa la cosa bella è che abbiamo vinto 100 V-Bucks per un e chi ha vinto ma il forno è sempre uno mio? il tuo forno l'ha staccato vuole che c'è ancora? allora lì l'ha staccato tu l'ho messo chiudi poi lì Michael scusami l'ha staccato vedi da poco poco ma è appunto per cui adesso andiamo a farci un giro nella salva al mondo allora vediamo un po' chi c'è decisamente lui lanciamoci ok dai molto meno frenetico della battaglia reale comunque quello è poco ma sicuro quello è poco ma sicuro però se mi fa vincere V-Bucks diciamo che io sto puntando molto su quello della vittoria V-Bucks come stamattina ho fatto una partita con il giro per provare e ho vinto 100 V-Bucks grazie a un lama si vincono questi lama si vincono allora questo qui si fa così niente di che allora le piante vi conviene to- vi conviene prenderle così queste vi prende per farvi materiali che naturalmente non servono per costruire ma bensì sono munizioni ok munizioni o materiali per fare munizioni stanno arrivando dovrebbero arrivare gli altri io materiale il mio ok facciamoci un po' di materiale facciamoci ragazzi perché comunque premendo la X quando siamo sopra molti voi lo sapranno molti ma no sopra un'arma ci dà le munizioni adesso stanno già partendo ok no poche risorse abbiamo ma ho anche pochi colpi piangere i zombie non mi conviene molto buttarmi piangere i zombie eh devo andare a fucile a pompa vado a aumentare le munizioni ragazzi vedete come io mi muovo ok mi muovo avete visto che io trovo le scatole e cerco e trovo munizioni capito per cui visitatevi tutto il possibile qualcuno te lo aiuta tu ok mi ho fatto salvato cerco di farmi un po' di roba per cui qua vi conviene fare sì un po' di roba ma soprattutto controllare gli accessori che fanno cerca che vi danno munizioni materiali trappole e tanto altro ok fatevi questo giretto qui munizioni no ne estremo tantissime proprio vi spiego perché veramente non è come una pvp ok con battaglia reale non è veramente così però sono un po' diversi tasti ok sale lui cosa facciamo sinceramente non diamo anche noi vedete io cosa faccio faccio le cose perché poi se premo come va sulle armi sulle armi con Y vedete premo X ok e sto creando munizione guardate 281 avete visto 341 dovevo trovare i miei amici trovare più avete materiale più potete creare munizioni voi vostro provvedimento è estremo se lo vado c'è qualcosa qua eccolo lì ok questi servono per attivare le varie ah bella per attivare le varie visite vedi lontani amici varie cose servono ok trappole arriviamo qua siamo mi avvicino verso i miei amici per capire dove cavolo sono ok scusami tutto male per capire dove si trovano così andiamo a salutare trovare un po' è molto particolare confronto all'altro a una un'altra normale dovete proprio cercare di tutto sentite qua qua vuole essere un guardate vi metto cercando qui munizioni va a fare il tuo materiale che prima dovete cerca voi come ve le munizioni cercatela al massimo ah eccolo qua bel regalo bene bene così mi piace ciao bello puoi anche andartene ok ragazzi un bel lag naturalmente ci va un lag sempre vuole capire sono i miei amici perché ragazzi ragazzi sta ho qualcosa da vuotare allora andiamo a vedere cominciamo materiali che è il blu che avevi non capito chi fosse il blu orco giuda dai ragazzi su su vede un po' morto ah la la ok ho già attivato questo buono è dentro ragazzi sono questi qua no parole allora qui abbiamo un amico basta eccoci qua eccoci qua ecco la vita che abbiamo ok ho anche il blu c'ho anche dai dammelo eh 2 4 no 2 4 ok ok ah arrivando gli stronzi che cazzo fai eh abbiamo anche i zombie che fanno chiudete chiudete ragazzi che cazzo fai oh merda sono caduto oh Zombre ragazzi Dai dai ragazzi Su stupiamo facendo Tu è morto La storm è sui coglioni Ok E sono Zombie dove siete Non ci facciamo un cazzo qua Non c'è la mente Ma dove sono i Zombre Solo per sapere Deve non scapire Dove cazzo sono i bastardi Eccoli là Eccoli là Eccoli là i bastardi Eccoli là Eccoli là La Eh questo è più figo cazzo Ragazzi Non ho visto tutto a voi A me niente Un passano straniero Minchia Ti frastullo il mondo Figo Tanto il canale è quello ragazzi Ragazzi Un passano L'hai scelto per ammazzarmi Eh sì Ciao Eh sì ciao Il mondo Dai vai Eia Domani Domani arrivo ragazzi Domani arrivo eh Aspettate che arrivo ragazzi La mia arma si è rotta No ma non si può rompere l'arma Perché si può rompere l'arma Parca malosca La pistolina deve andare Ma non si può rompere l'arma A terra Oh frastullo frastullo No ma non si può rompere l'arma Ciao ragazzi Siamo su salva al mondo Sono un po' incasinato Che ho perso il mio m4 Ma ho il fucile del nonno Il pompa del nonno May non lo senta May però Ma è capace la cuffia Un attimo ragazzi Che sto arrivando May ci sei? Ok Un distintivo d'oro ragazzi Vittoria Bene bene Lucaago06 ci segue Ciao May Aspetta May sono su salvo al mondo Aspetta Ti sei mai? Salve signor Sì salve signor Luca Come va? Hai cambiato profilo Lu? Salve a tutti ragazzi Luca ha cambiato profilo Lucaago06 Credo che salva al mondo Praticamente un po' noioso E come mai? Non ti credo della password sicuramente Dammi soldi Neanche un solo Cazzo vuole un V-Bucks io Dammi dammi V-Bucks Tantimeno ragazzi Che mai sei andato? Non mi sento? Ah ok Cazzo vuole un V-Bucks Poi quando Cominciai 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 Se non c'è May Non cazzo a fare Va bene va bene Tranquillo Fatemi fare qua Che poi fra un po' Andiamo su Sulla battaglia reale normale Ok 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 Ma cosa devo fare? Questo Andiamo a vedere un po' questo Chiamate Pinkas No Lu Pinkas Ma forse Nella salvamondo Non ti vedo Però è quello Lu Pinkas Viene più tardi Del quello Hai capito? Lu Fai una cosa Ma anche tu Vedete su Se avete voglia In un giorno Su Instagram Buono Non o male E' appena piena Deve recuperare Lui devi cercare Anzi Ancora L'altro Instagram Scusami Chiede amicizia Scrivi il nome Chiede amicizia Ce l'hai ancora l'altro L'ho ancora formatato L'altro cellulare Per cui Puoi chiedere amicizia Tranquillamente Perché cavolo Aspetti Scusa Un attimo Piancianti 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 Aspetta Abbiamo gruppo Invita Invita altri Invita gruppo Dove è May? May 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 Dove cazzo Sei Sei May Oh non vedo May Ieri ho messo la storia In pratica 60 persone mi seguono 60 persone mi hanno Inchia Che culo Cioè Culo questo Non ti vedo May Dove cazzo sei Ah May Allora cercati le persone Che ti seguono così Quelle Quelle più serie May mi senti? May May No funzionavano lui Ieri funzionavano Ieri funzionavano Pian piano Tutte per le cuffie Tutte Tutte No vedi si vede il nome C'è 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 Ah ecco ti May Ciao May Sì sì Uno non funziona Neanche lui Una cuffia Anche a partita Eh tranquillo Tranquillo Allora faccio un po' Di salvo al mondo E poi faccio Cosa La battaglia reale normale E poi si prendono Lui Purtroppo Questa va a cagare Mai sono andato Lo sanno Mai Sì no Mai è tornato No adesso vanno Luca Sanno che vado Non lo sai Sì ma Le teniamo finché aspettiamo Sì Sì How about Huh Eh sì che sono buone 20 mega Ehi tranquillo Come? Cioè si può donare? Soldi? Chi deve donarli? C'è altro che si può donare? C'è altro che si può donare? Tu vai sotto C'è la C'è la cosa Una E di euro Sei dal cellulare al computer Allora vai su info No Se tu vai su info Dal cellulare Capito? Tu scorri Dal cellulare fai info Aspetta Aspetta guarda Come faccio a mettere il link? Cioè se tu vai su info Nel cosa Vedi una E Vedi capito? Devi scorrere Nella pagina Del 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 Capito? Allora come fai info Allora ti fa donare Ah arrivano i zombie Ah arrivano i zombie No Non lo so Non so che ho fatto Io ho fatto niente Stamattina sono entrato Per farmi una partita E mi dato salvo il mondo Mi lasse anche la scala Mi lasse Mi farebbe un po' Un favore Boh ma non tardi Capito? Vediamo un po' Come va Buongiorno La May Nella chat C'è il link Se l'hai uscito Si Niente La Qua Allora Allora Siamo in 6 Buono ragazzi Buono Ecco la zona di atterraggio Su Su Ciccio Atterro Dai C'è già partita Salvo il mondo E poi dopo Vittoria Si Vittoria reale Magari La vittoria reale Michael Eh mamma mia Io Dai Qua siamo uscito Eh Ah da costruire Che mi è bloccato Coglione C'è roba Sei un coglione Sei Beh Purtroppo Quando uno è coglione È coglione Allora ragazzi Avete Si Sì Luca Ah No eh Sì sì Ha fatto il cosa Ha dovuto rifare il profilo Perché Ha cambiato il cellulare No Non ancora Non è arrivata No Non ancora Che lento Che lento ha Viglia tranquillo Ok lo faccio piano Tranquillo Che non ti sposa Il joystick Luca Che mi fa esplosere Il joystick No Luca È in live Luca non c'è qua oggi Con me Con la mamma Capito E sono rilacciato È Luca Che sta scrivendo È lui È Sto leggendo I suoi messaggi Sì sì È lui È lui È arrivato È arrivato Sì No Luca tranquillo Che è piano Il joystick Raga Scendo Bastardo Tra otto minuti Il pallone Domani Io Eh Perché Si è andato Non so Che cavolo sia Lo sai sinceramente Non me lo chiedere Se sono Giocatori E sono solo Sai Cosi del Dell xbox Ounque Fanno entrare qua Questi qua stanno Fortificando La stecca Un po' rimo Di zombie Tra te e Michael Mettete la metà Ah ok Il joystick Mettiamo la metà Lo ricompriamo Il joystick Io faccio piano Luca Sono delicato io E qui Michael Lo ricompri Il joystick Eh Ah beh Che lo ricompri Perché non lo ricompri Che fa lo stronzo Michael Vai tranquillo Io Io Sì Vabbè Hai visto Piano piano Siamo Allora No Poi Ah ok Michael Ti ruvo Il tuo Il tuo Luca Ci materiali Oh Merda Ascolta Belligeri Costruite voi Distruggi il pallone Ok Ok Visto Mi si fa Il pallone Ecco A muo Arrivano i zombie Sì Ok Preparatevi Per i zombie Eccoli là Preparatevi Via Via Ah Ah Bastardo Sono troppo alto Ok 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 Headshot Buono Buono Ah Dai a 100 Si Si ebbe Minimino A 100 Mi sa che oggi Arriviamo a 1000 Visual Carica Carica No 1000 visual Si 100 No 100 follower Impossibile Bastardo Boh 70 70 Qualcosa Cosa Visual Follow Guardia No 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 L'accento difficile Si vabbè Arrivati ci arriviamo Questo è più bastardo Sei Questo è più bastardo Allora 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 È bello Perché Amica Da lontano È bello Quello È bello Pro Prima Ragazzi Vi seguo Adesso Ah 77 Buono Ah Dai Caricare Caricare Che la mano Minchia Allora Voi due State là Dai Vi do una mano Vi faccio così E poi Caricare Il ciccione Il ciccione Dai Che ciccione Di merda Oh Ma che bastardo Ok Eh Mamma mia Quanti siete Dai Voglio Ho vinto Anche 100 V-Bucks Questo cazzo Di gioco Ok Minchia di nuovo Momento Dai ragazzi Ragazzi Su Su Ciccione Ok Dove 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 Finito Niente Domani Finito Oh Cazzo Gianni Ieri Gianni Si Ha caricato La Xbox Gold Si Ragazzi Ragazzi E io Posso Tenere Sotto Occhio Io Che cazzo È Ah Sta Maghetta Di Merda Dai ragazzi No Michael Al cellulare Adesso La No No Michael Sta Su Instagame Nel cellulare Facendo I camoli Suoi La Vai Vai Sì 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 Vabbè Cambia Nulla Sempre Siamo Sempre Lì Siamo E poi Ci puoi Tu No Eh Poi Il Sobbero Col Poco Facci Sì non manca il tuo oh oh Gianni ah ah Gianni e poi un muro con la bambina ma non è sempre come siamo? in tre? il giovese il cavolo no è rumore Luca è solo rumore che non si rompe ciccio dai mi ricordo è che ti fai tipo King quando pensiamo a poi tipo così col telefono si stai fermo ti fermo tranquillo appunto appunto Luca hai ragione ah vinta 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 ciao Argo Gamer grande dai si si infatti no nessuno può cedere sono nel gruppo da cedere platino bella aspetta voglio fare ancora una che già stamattina ho vinto già 100 V-Bucks salva il mondo non chiedevano anche a me come ho fatto ad averlo si si Argo salva il mondo non chiedetemi come ho fatto ad averlo non fatemi domande ma ce l'ho non so per quale arcano motivo cosa ce l'hai dai ne faccio ancora una e poi andiamo su battaglia reale ok 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 me se n'è andato adesso dai Luca ne faccio una poi le faccio toccare lo scarso avevi pazienza allora a fare la foto e tua mano me la fai piano potenzialmente indietro allora facciamo ancora una dai Luca pazienza poi mi fai ancora una qui e poi faccio giocare lo scarso di Michael Michael preparati cosa Gianni Michael la PC no no qui non c'è si si chiama Michael ma il nome come è non mi ricordo real war real cosa stavo sperando di vincere un altro lama ma cazzo non mi chiami magari mi facciamo altri cento gubaz porca troia dove vai fate piano fuori è Thomas dormendo ti hai speso il cazzo volto oh dimmi che nome vuoi mettere vabbè matta cazzo G1 anche Luca ha messo G2 e glielo tolgo cosa è G1 non fai non fai parte di G1 scorda non inventare i nomi non fai parte di G1 eh tu fai parte dei cosi di EggJar eh mi senti si mi senti si mi senti eh ma a volte io crascio e non che crascio scallosio e giochiamo dopo tranquillo tutto bastardo quindi qua aspetta grande grazie ma perché ha aperto lì aspetta un attimino ragazzi ecco qua sei rispetto ai ragazzi sono mancato un attimo faccio questo ragazzi poi andiamo su battaglia reale lo cazzo sono? non da solo forco giuro sta morendo sta morendo sali 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 dai vai ah Gianni lei mi fai? aspetta 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 se non posso fare niente adesso devo fare strage ah non è capito questa si? ma non sembra vuole bene si sente un supersit nelle vicinanze c'è un supersit in zona grandi raga buono buono ragazzi buono grandi grandi belli thank you very much my friends questo lì anche dalle palle mi presto un favore guarda cosa c'era qua devo guardare buono non c'è un cazzo non cazzo shanti ciao ragazzi che cazzo che cazzo ah sono finito allora ragazzi due secondi che poi vi seguirò tranquillamente possiamo oh che palle eh 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 io se sono qui non posso essere nel tuo canale hai capito è quello nel suo canale streamer se dice te allora dovrei costruire questo che cazzo va allora il materiale ah il legno lo vuoi ok sentai il tuo ma sta brumendo la piaci lo sente come lo sente come eh sento 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 ti sento lascia riposare lala lala ah bastardo dai 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 buongiorno buongiorno ragazzi a tutti benvenuti in live sento un superstito dove sarai? è una cavola su queste pensante non pensa ma da porco allora ragazzi aumentare ricarichiamo munizioni ecco eccolo qua il fogone trovato ok dai carica cosa ok sei bravo arrivati porco giuro che non va mi ha chiuso ma che cazzo mi ha chiuso quel coglione che è un coglione che è un coglione che si è messo che si è messo a chiudere cazzo chiude porco giuro no no non c'è arrivo lì l'ho portato fiero eh c'è però dieci c'è ciao 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 danny adesso adesso danny michael gioca con te fra un po' nessuno salva il mondo e arrivo che mi sono tra le fucile che palle si rompe ti metto un altro capito metto un'arma merda allora questo x così entrano e muoiono per terra quale si mette se non piano quello è la prima cosa ti passo ti butto indietro l'ho fatta? ragazzi non è mio c'è un regalo qua andiamo a vedere cos'è merda 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 l'ho fatta devo fare devo andare Grazie. Grazie. la luce michael prende la luce per fuori in mezzo ai mostri un po' il mezzo posto, va oh che lag la pistola vado, cioè raga minchia cazzo di salva il mondo è noiosissimo Dani salva il mondo eh? si si a me non piace noiosissimo noio proprio noiosa manetta si? il Thanos cioè tu prendi la tua arma Dani e devi ammazzare i zombie proteggi da ammazzare questi cazzo di chiamali zombie chiamali come cazzo vuoi poi ti si ti si ti si rompono questa è finita dopo questo qua basta se non so più voglia ma ci hanno rotto i coglioni mamma che annoio spari spari Dani sei talmente povero appunto bravo grazie Luca che bel figlio che ho no non lo so non lo so Dani sono entrato stamattina è gratis ho vinto anche 100 v bucks 100 v bucks 100 v bucks 100 v bucks così ma che cazzo ne so è che sono povero io capito essendo povero nella cosa è gratis ma io sono più povero sono più povero di te hai capito vinto finita saluta ragazzi finito adesso entrate entrate con Michael giocare vediamo cosa ho vinto occhio vedo perché devo andare via credibile Michael è un po' che l'ho vinto ciao Michael vedete i cuffi intanto aspettavo che tu non sgarmi no ho Luca è arrivato il pollo piano Michael la luce bottino livello primo bottino livello secondo dai facciamo il gioco dello scarso dai molto scarso ok il forziere ok buongiorno a tutti apriamo il forziere eh può dare anche v bucks può dare mi sto aspettando finito mi va giocare con loro no 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 noi no 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 nunuz no 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 por ti per il suo dopo un risposto di senso chanthal chanthal abbassa incarichi il parerino chanthal chanthal Ecco a voi ragazzi, battaglia reale, siamo tornati, il Nabbo sta giocando, ma sempre e comunque saremmo sempre. Sai che siamo quello? Aspetta eh, l'ho sempre odiato, è francese, non mi piace un fucile, non mi ricordo, poi mi viene in mente, vai chiudi. La tua cipra me l'avevo già fatto, fammi forzieri, ritirato, fammi le missioni eh. Bene ragazzi, un po' di relax, io sono Valerio, un altro iscritto abbiamo, io sono Valerio06, grazie. E che è questo Andrew Day? Eh è un nuovo che gioca a noi, facciamo giocare. Bene ragazzi, bene. Gianni ce l'ha storto ragazzi eh, ce l'ha proprio? Ce l'ha pesino storto Gianni. Dai ragazzi, su, 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 su. ok è scarso anche tu non rompi le joystick è scarso anche tu non rompe le joystick con i guanti è chiaro stavano funzionando bene è strano che questo funziona bene io lo rubiamo per forza io funziona bene così tu funziona male è il cavo forte stai zitta è brutto stronzo mamma mia sei come una merda tu vai ecco adesso vai muovi da poco ve lo spinotto no no spinotto muovi mi sto sentendo ancora ecco ecco dai mei arrivi tra te e michael mi avete scassato tu l'hai scassato luca anche a te cade lui fate schifo facciamo schifo te 3 vabbè luca vuole dire che me lo ricompri nuovo tranquillo sta arrivando mei aspetti dai ragazzi comunque come sempre ovunque sarò sempre il migliore siamo i migliori siamo i migliori siamo i migliori stream chantal chantal è sorda chantal abbassa ma sorda sta qua bei problemi eh ma lo scarro ma la cosa mai sorda ascolta xbox e' mia le gestiche le mie posse eh riatti ascolta ebelige è due vai buttati trattalo bene sono anche tubere pulita l'altro giorno no no chantal cazzo sempre la storia non ti puoi fare niente la spe e mei è giù con dare il po entri in gruppo abbia pazienza capito la spe e mei abbia senza quali fare questo e poi va siamo da soli danisa siamo soli xbox è mia signora piero posso fare ciò che voglio tu luca sei mio e posso fare ciò che voglio di conseguenza ti faccio un culo così sei uscito dalle mie palle questo è stato stronzo signora mi chiama e stronzo cosa si da computer cosa si si da computer scarico danni è gratis perchè abbandonato già se ti piace eh si non lo so sicuramente adesso si trovano tre team e due sicuramente attendiamo in linea sai che proprio che giorni non voglio fare niente bene come sempre no bevi va bene ma è dato che il salvo al mondo è tassi diversi da questo e perchè si si danni mi preoccupare con la y non cambi le armi no è giù utilizzato le ruote dovrà cambiare fa schifo quella non so usarla così ma qua c'è col end no è una merda così io voglio cambiarlo io mi fa schifo se finché ce lo avvici gioco lo voglio vincere gli altri vbucks io già 100 vbucks recuperati per cui e la classica scusa è la prima partita eh si si è vero non male tu morirai e la classica scusa è la prima partita che morirai sempre no no ragazzi così tu gani cazzo vieni qui ti lascio una forza scudo da 50 sta lagando un pochettino vero sta lagando un po' credo con più pistola pistola si si non te l'ha specificato beh appunto quindi anche tu fai qualche missione sono missioni nuove hai capito? eh? devi fare missioni anche i forzieri dopo i guardi e poi dovete di nuovo aiutarmi vuoi? danni vieni qua cosa vuoi? poi giuro dovete aiutarmi ma non c'è non puoi aiutarmi a fare? come si beh c'è la pota aiutare allora se devi a farle aspetta ho sentito quacche sto sentendo quacche ho sentito qualcosa quacche sto prendi c'è una papera? si eccola la prendi? buona cosa fai? c'è una macchina vai vai vieni qui qui dove c'è il michael grande poi ce n'è un'altra è qui tipo si c'è una papera scarso fammi le missioni wow ma e io qua che non lo sento perchè non ce l'ho ho passato brume non le ho cuffie poi ce n'è anche dentro una casa beh almeno le papere non sono inquietanti come i nani no ma non so non lo so ma ho visto su instagram questo posto che era dentro una una vasca dentro una casa guarda quella casa no? no se la dove adani ti avvisa ho sentito quacche ah rispettare guarda perchè lagga? la guarda ok è dentro la vasca però non c'è qui dentro la vasca non c'è la e le mete piccolina c'è un viola 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 ho sguardo ha fatto un colpo al microfono il microfono te lo fin da un vampa vabbè shanty la bomba è appunto sì sì no no spola casaccia Dani sì ho sguardo a cazzo di cane a cazzo di cane cosa fai? il garazzo fa il capito non lo sì a cazzo a cazzo poverino per tutto qualcuno eh aspetta con le cuffie di merda ho sparato a caldo comunque allora Dio Chantal ferma che tua mamma è addormentata dille cosa signora Piero oh Luca non so che dirti signora Piero? le bar rose le parole sono tanto buono eh ci sono già fatto ogni due dico cosa Luca urlando addormentata no ma a cosa che so tu pensi addormentata è il tuo mamma no addormentata è fuori testa Luca perché è larga Dio Santissimo benedetto è perché ti stai guardando ah ma ancora ci può anche qui ah se così non larga no no eh scusa bene no no Lala dietro buono buono ah ah che ti merito corti subito tu non sai mai giocare tu non sai mai giocare iniziamo le scuse le streaming di ninja si vedono meglio oh Luca ascolta c'è la fibra il bastardo c'è la fibra mille 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 miglia è quello qualcosa giù da un'essimile cose eh avessi una connessione tutta per me magari no eh troppe puliche che ti fai tu no 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 sai che fai tu le puliche eh tu dove la fai tu è anche l'entrante ah Dani ah ti fai troppe puliche Dani si però si tate le mani stanche Dani come ho fatto appunto si è stata ieri no due giorni fa la fai Michael ha le mani stanche per le puliche eh Michael sei spullicato allora ci sta tracciando il bastardo ieri stavo facendo le puliche no stiamo in classe no tutto a scuola no e non mi ricordavo come si diceva a scuola adesso c c no è possibile oddio mio sck cioè spariamoci Dani spariamoci dopo questa qui veramente sq scuola si ma ho sbagliato perché mi sono scuola 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 e come si scrive invece sq uola giusto si fai lo spelling s sq no sq sq u scuola scuola con la q di quadro scuola schiera no si con la c ah che minchione che minchione grazie come viola tranquilli vivere insieme a me hai ragione hai ragione visto Luca come ci basta poco a fregarlo sq uola scuola minchia e tu vuoi andare in primo medio colpi colpi prendi tutto dai colpi lancianazzi poi Dani colpi lancianazzi da darti vado a prendere e non vado a prendere dati si vado lasciamo risparare ah qua sono sono qui dietro qua dietro 2 5 1 2 5 1 certo uscire da qui è il massimo non è mai quindi ha molto lute è pieno e lì dietro e va che per cazzo no per un ferro di fila la tua lui dovrebbe andare lui dovrebbe andare in primo elementare dopo queste cose nel mele bambini appena praticano questo scuola e poi scuola e poi scuola s k neanche s ch scuola che è un k proprio del e poi fuori uscì là dove sono? vai 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 no tranquillo tranquillo se lo vuoi ce n'era? e c'è c'è il rianimatore c'è rianimiamo no cosa? cosa no? si è mosso prenditi il mt e anche questo è qua fuori aspetta prendo un altro allora cosa c'è qui? prendi il medikit prendilo per forza il band bravo trappo cosa c'è lui? lascia granate no Dani c'è roba c'è un po' e c'è c'è troppo di legno è 999 no dai c'è troppo eeeh 600 tu? eeeh sono al contrario adesso e va bene dai eeeh 600 ti l'ho dato no non prenderli non prenderli hai ah ok aspetti la perella sento la perella? eeeh chantal eccola segui la maipol che la prendi qui dietro no no c'è qui eeeh lì dentro l'ha vista? si eeeh e la perella cos'è la missionale dei tipo i nani vero? cosa? eeeh tipo i nani a perelli solo se non desiderano una stella alla 10 magari? eeeh tipo i nani magari eeeh lani cosa davano? la stessa la 10? eeeh se io ho liberato un mestiere alla fine? la perella è meglio e no no cazzo di ciarega addosso? si si ma quel cazzo di fortuna che hanno fatto c'era guarda Emicon allucinare sono 71 dentro quella diglielo diglielo faglielo vedere c'era 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 che cazzo sono come sono che sei così come un pazzo non capisci un cazzo Dani scusa ah madonna ti vuole sotto 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 la scorta la salazia pensa che hai l'altro posto buono 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 ok via 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 il ragazzo si parla lontanissimo c'è lo scar qui in zona dai lo scar prende tutti i colpi e poi gli fai da danno in caso vai giù che devi portarla qua jump poi Dani sta curando quanto Dani che mi protegge sto arrivando è tranquillo lascia di là la pozza a lui poi la pozza Dani c'è una pozza da vertico a corri un pazzo spara li spara li spara li continua a spararli sono morti ti lascia la cellulina in realtà poi la cellulina uno vuole qua va giù che ti serve nasce il lini per lui proteggilo proteggilo la so cosa allora so la uno spazio vuoi darti ok un altro bravo vai 9 vai tranquillo quindi continuo 8 bravo adesso è nato adesso è nato ok un è caduto un è caduto non so se si è fatto male ma dico che è caduto non lo so uno è caduto dall'altro ma la 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 Dani 3 2 1 sono due team avete qua dentro si e due lassù due team avete uno lassù uno qua guarda lassù guarda lassù guarda lassù guarda lassù guarda lassù guarda oh sono scesi prova lì controlla controlla occhio dai non laggare dio santo cazzo vale quando lagga no trappole chi è? sono qui sotto questi eh vai vai segue lui dio canarino carica carica intanto chi è? chi è? chiede trappole vede trappole qua dove? no 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 che cazzo vai la mei ah ok oh posso piano eh un 30 secondi solo dove sono due timo ancora che sono no non lo romperai mai non lo rompi non lo rompi non lo rompi non lo rompi si rotto ok a posto bobo a chi ci vuole Dani fai fuori quelle cose fai fuori quelle scale per salire cespuglio bravo bravo è a terra è a terra bravissimo lì 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 e mi ha privato dai due le mancano eccoli 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 dai 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 la prossima volta attacco la stiera all'Xbox siiii cazzo urli luca chiedo scarso adesso wow prima partita del giorno inizio a venire 5 kill e kill scarso adesso non so se fa luca eh luca vuole passare a mouse e tastiera dov'è prova attaccare la tastiera ma potrebbe funzionare ah contento ehi c'entra vbux vbux vai dark pure 20 anche tu perchè hai fatto tutto ha fatto tu Dani perchè hai fatto tu Dani perchè hai fatto tu Dani è bravo capito non per te Dani ha fatto solo due 15 di me ma ti ha supportato tutta la partita per cui l'ho salvato io anche l'ho salvato a me e quindi siamo stati alla fare hai rito? sii vieni 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 eccolo qui ok solo a te dark aspettiamo tu sei solo un nabu che utilizzo la luce d'ansia ah? sei solo un nabu che... in quel momento che non c'è la luce d'ansia va beh in generale via del nabu e anche tu lo utilizzi eh ah non funzionano più le cose ah si adesso si ma... quello... ce li ho comprato le cose qua hai i soldi? boh e quando le avrete i soldi? quando hai i soldi? dark e tu? non vieni? non vieni tu? ah ok eeeh no è che... c'è oh guarda guardare pensavo che fosse così lui invece è qua vedo l'infarto io l'utilizzo poco è live? si si è live si si è live si si questa la vinciamo fuori ecco qua 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 è bello squadra è ormai comunque fa collegare uno l'ha fatto come su tutti i cigli attacchi proviamo qua l'attacchio e il tastiere eh si e il mouse? forse è dietro dietro e lui proviamo poi quando uno stream però eh provi eh quello devo scriverla fai figure di merda poi quando fai la tastiera magari se tu ce la fai chiusi il mouse e cosa per l'express non causo? si quindi il punto è strano esatto ti voglio che la fai oh 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 sei malato si ma muori ok lui proviamo tranquillo tranquillo ma è caso dobbiamo vincere eh dobbiamo vincere adesso magari in un live ci provi e vedi un po' com'è e poi ce la fai poi quando cambia le tessere a mouse tutti le tessere a mouse e proprio così anche se di avere un tavolino è scomodo eh comunque senza tavolino ah si a pinnacoli di fare uccisione a pinnacoli di fare uccisione a pinnacoli la missione lo sai? ah meno male che sei tu Dani tazzi meno male che sei tu parca puttana capito? uccisione a pinnacoli di fare per la missione piano Dani shanti piano shanti oddio ma quale febbre io sto male tu sei solo una checca e tu vuoi essere una cara sicuramente checca oddio che lag qua paparelli qua paparelli dai cosa vuoi fare? morte una buona così facciamo le uccisione a pinnacoli anche ah altro basta che lag di merda questo è un lag di merda da bastardo proprio vero te la non c'è tu la mi mi si lo mi a dar che la vita aperta la vita per terra vita per terra salvolo salvolo di anima ciao che fai geniato da chi una no solo una notizia mi chiami tutti perché non fanno calzare l'attaccano subito 2 a terra ma chi non è fatta quando vito d'arte per terra d'arte per terra anche per terra di aero dove le frecce di la cambiamo in quel momento proprio spiega dovremmo buttare la galata vestiti di video dello stesso modo fatta a scuola che uguali vestiti dello stesso modo ho tutti i carburo o i wrighter non ti vedrai che ce l'hanno tutti tutto i carburo dai ora perchè di i i tabu tabu ora cambiala poi il progetto da che manca ok buono un po con la carota ecco, non usiamo a ballare e mi riconoscete subito si confondi con l'altro eh, me lo muore eh, ma non mi sei te ne ha fatto ancora per la casa alla fine perchè non è giusto neanche cazzo problemi eh, si guarda non mi interessa Florian non mi interessa vai sul colo siete in gioco? potete andare via che io non sono entrati chi è entrato? no, non mi ha fatto entrare non mi ha fatto entrare no spegni che cazzo c'è la rimarda stiamo crollando stiamo crollando non posso domandiamo? finnacoli fa la missione a finnacoli e poi la mettono in uccisione che fuori schifoso va bene chi ha preso un paperello di voi a parte me e Danica ci trova si trova proprio a commercio una pantera prima con Danica ma c'è un altro ragazzi grazie 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 a vita arrivo grazie è morto eu morto andale Non, 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 non Grazie a tutti. 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 Eccolo, 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 eccolo. Aia, 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 mi ha colpito Eccoli, eccoli, arrivano Che palle, mamma mia Eccoli, da qui anche 2,30, 2,30 Ah, ma va bene Ti ho beccato in volo Eh, brutta, brutta Non fa così Allora, mi siamo a due solo Staccalo, mamma mia No, non ci posso minimamente, devo staccarla E' questo Non so, un cazzo, non puoi parlare Preparatelo, ragazzi E doveva stai facendoci? Vabbè, rispidete Allora Certo Non ho detto niente adesso Aspetta che devo condividerla Allora, andiamo qua Aiutami Piero Cosa? Niente Prima C'era 207 Quindi devo dirti Per favore aiutami a spaccarlo Dove andiamo Eh, di Boh Siamo pieni adesso Dopo giochiamo con te anche Gioco con te Aspetta eh Ho dei cucchi di merda Allora Adesso siamo pieni Dopo gioco con te Eh, brutta scelta eh Brutta No, non è buona Non è buona Io non puoi lagare così Gioco Non ce la faccio io Non ce la faccio 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 Eh, ragazzi, scrivi solo in due a questo Che lag Ormai Butta fuori adesso E' 64 ping E' il gioco non è Il gioco Il gioco Il gioco, si si Cioè, sono crashato eh Ma di brutto Si Il gioco Mi chiamo di brutto eh E i ping erano giusti Come sempre Che sfiga Ma tutto è tutto Avvia Che si In tre In tre Oh, per una male Vai, vai ragazzi Vai 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 raga Si Raga Si Raga Si Raga Si Raga Si Si Vi voglio Più Attivi Ai Il portafoglio Siamo crashati Avete pazienza Da Che ti ha invitato A me Abbiamo avuto Un crash tremendo Che sta fai Che sta fai Che sta fai E guarda che sta fai E guarda che sta fai Avvio Avvia 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 Ce la fai L'orco Porco elettorato Bel crash eh Minchia Questo gioco Questa è un transamo Con la rossa C'è una minchia C'è una minchia In mezzo alle gambe In quel tempo C'è carburo e omega Sono fratelli È vero Lei è la sorella di lui Di lei Cosa ho visto? Ho visto una cosa Ah minchia Stavano già Ah abbiamo visto Che cosa ha visto la ride Queste cose qua Non lo so C'è tra un video e dark Che si vede Un video stavo guardando Che brutto questo Che cosa Mi piace Mi piace Eh questo non ci sta No non ci sta proprio 3.50 500 3.50 3.50 3.50 ho vinto Eh sì sì Ah è vero Vai avanti un po' delle sfide Vai È uscito il nome sfide E gli danni con le pistole rifugio ritirato Cerca mappelli di gomma C'è? C'è? Quante? Non hai visto? Non lo so Creo 12 si sta entrando ma capito dal caldato uscita dai ragazzi che oggi marco il marco ma nonna tu puzi di tonno vitto 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 pronto ok michael puzza di tonno quello un marcio al forno e poi c'era stata mi fa 5 per favore molti pezzi cosa vinciamo dopo quello che fa un po diciamo la la peppina con le caracca domenica mi chiamola bella ragazzi in cinque bella vi stimo di incoraggio mi dà bollin coraggio grandi raga perché noi sempre paragone e vinciamo sempre noi grazie a voi porco disco questo santo insomma di mette video porno mette che cazzo lo andiamo a fanculo domandiamo domandiamo ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi quest'oggi non so per quale era caro motivo voi leggerete salva il mondo perché ci giocato prima a mio parere noioso questa qua serie che cazzo lo sovi video anche a pinnacoli devi fare uccisione e vincere la missione e hanno tolto il guanto di thanos non c'è più chissà ok 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 sono andato dietro le spalle le spalle le spalle ok c'è nessuno uno l'hai fatto sono andato ok una l'hai fatta per cui siamo quasi messi in mano ad andare di nuovo avanti chi è morto dark 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 che cazzo è dark no 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 che cazzo la uomo dai dai tazze inchiamina di merda proprio veramente che cazzo è salva la manita scrivendo bene bene sabbataggio in linea vento ok devo guardare quella missione che l'uomo l'uomo a terra c'è lì hai visto l'uomo a terra camminando alla quattro zampe no aia sta dietro sopra sopra aia ma un team proprio vito vito grande ah 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 minchia vito sfasciando il mondo non mi vedrà mai sono dietro la slu ah e vabbè finchia il mondo ha fatto fuori guarda un po' le sfide subito che c'è quella del di pinnacoli guarda vai sfide vai vabbè eeeh il mio nemico ha pinnacoli pendenti me ne manca un un nemico ha pinnacoli pendenti ti fa 10 punti eh ragazzi quindi adesso pinnacoli eeeh poi fucile precisione rifarne due ed assalto rifarne l'attimici cinque riesci a fare tipo un passo e mezzo un livello e mezzo a caso ma che a caso va schifo fa schifo è e ora mi ha messo il il mio editor il mio editor fin a cui siamo proprio dritti e guardo il mondo è pieno c'è la dura dura? dura e guardo il mondo dallo blog allora duro allora whatsapp mi mandiamo subito là allora abbiamo un po' momo gravidi anche no no ben bene doc dobbiamo un po' chi potrebbe entrare ancora a guardarsi vai Dani prendi l'arma faccio un giro è molto interessante è molto interessante cosa? a vita di prudono i coglioni a vita di prudono i coglioni è un po' è un po' è schifato che dobbiamo ancora di dirlo impegno il cazzo è un po' di rinforzare dimmi 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 arrivando in privato a me e me io vedi è matto ma quella è la volta in olipicchio no no sta laggando perché lagga perché lagga cazzo come i messaggi che mi mando porco disco chi è che è morto visto eccoli eccoli gli ho visti la visita sono qua dentro un altro c'è un altro eh? lì dietro la, ah vabbè, là sotto siiii tutto luce per noi su chiacchierci il cazzo, bastardi non sta la missione scubidu papà un po facciamo una clip ragazzi aia attento sta arrivando è qui è qui da me attento eccola la che forte eccolo picchiano attenti dietro poi prendi la cacciotti zitto la piazza tutta l'age d'arca non riuscire bastardo balla pure guarda che va vivo ma se tu sei oh oh che culo quanti sentono due due gira giralo aspettate continua la galaga un po perché l'obiettivo l'ho fatto pensiamo un'altra cosa faccio da fare le paperelle l'uccisione col fucile automatico l'obiettivo difficile a 10 l'ho fatto uomo bellino il figlio che puttano no vado io tolto minchia eh no vado te ne fa un culo però allora no 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 tutto lui eh che cazzo non ci credo giralo devi girarlo lo vuoi capire che è questo qua ma girami le palle no no stavo scherzando stavo scherzando questo qua allora il set il due magari è che il due mi ti può finirci non riesci sto tornando e vai ah poi mi sta cambiando la paperella michael michael la paperella ha le cascate ce n'è una eh vicino a quel lago dove c'era che siamo qua sotto pinnacoli vai vai ti ho fatto un po' di clip anche con te cinque spettatori me mi 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 Grazie a tutti. E' a me niente, è bello? E' buona ammella. Fai un po' con la camera, dai. E' un po' più tanto, non lo metto. No dai, tu vuoi che fai. Ma si, va bene. Non giocherai più con la mitica. Te ne faccio sempre con voi. No, 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 morirai. Morire per questo. Eeeh, si che hai aiutato io. Andate. E' un po' l'emissione, lo sono messo. Già si guarda l'auto qua. Ma perché questo è un'altra? Vabbè. Bu, la. Per simple visione, nemmatico placciamo. Papparelle 10 nella wall. Forzione fuggibile di rapido e danno le pistole. Allora Hulk, a me, intanto me. e me viene, torna, fa, dis, fa. Il personaggio cambia. Il personaggio? No, che schifo. Oh, zitta, micchia. Il più povero, bro. 5, 5 ragazzi. Grandi, bella raga. Siamo in 5 live. Con Fronzo siamo sempre i migliori. Grazie ragazzi, grazie. Oggi siamo un po' silenziosi, un po' scarichi perché voi siete in pochi. Non siete. Fai un po' febbre, forse. Non so. Ma che cazzo di febbre? Siamo un po' scarichi perché comunque non partecipate molto alla live. Allora, stiamo in silenzio, non parliamo da soli. Cioè, spoiler, che mi ti ammazzo, eh. Comunque, dicevamo, ragazzi. Il joystick che mi dà il tuo poi. Porca madosca. Dicevamo, siamo in pochi, questo oggi è live. Per cui, vedete, c'è una carica. Cioè, arriviamo a 11, proviamo come delle bestie. 15, c'entrano santi e madonne. Quanti siamo? Un popolo. Due team almeno. Un popolo? Un popolo, siete. È arrivato il popolo di Fortnite. Dai ragazzi, su, manteniamo i 5. Andiamo avanti. Dai, dai, dai. Minchia, sei a 600. Fantastico, eh. Cazzo di server europei fanno schifo, fanno. Di nuovo due, vedi? Non dà le emozioni questi ragazzi quest'oggi. Non mi caricano, non mi caricano. Guarda, guarda, vieni, guarda. Mamma mia, mi vado. Non mi fai cazzo di trovare questi video. Oddio. Oddio. Raba, avanti, raba avanti. Ma la laga quando salta? No, la laga più. Sto' stommando. Non fa la cazza, anche la cazza. Lì, 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 lì. Lo cazzo di... Vai lì, 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 lì. Non da vito, in te di farlo. Ti mordi, Vito? Lala. Eccoli, eccole. Lala. Lala. Scegliamo. Lala. Oddio. Questa frastula fa male quello, eh? Oh, così. Eliminazione di fucile di... Così, così. Ok, una terra. Vito, vieni qua dietro. Merda, Vito è andato, porca droga. Ciao, Krusty! Grande, grande, Krusty, grande. Grazie, Krusty per l'hosting, grazie mille. Cioè, non ci credo, con il faccio da caccia, questo. Vado a caccia. Col vampire. Andiamo a un pochettino, se bisogna fare una cosa. Aspetta, Krusty, eh. Andiamo a se riesco a fare una cosa. Sembra fa fare, via un po'. Aspetta, ok. Vediamo se riesco a... A, 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 farlo, via un po'. Grande, grande, Krusty. Ma che, ma tranquillo, non preoccuparti. Chi? Eh, vabbè, oh. Grazie mille, Krusty, per l'hosting. Siamo in hosting con Krusty. Cosa facendo? Cosa sta impiantando? La, vuole copiare. Vuole copiare. Bellino lui, che vuole copiare. Che la cerchi? Dai. Non l'ho trovato. Merda. Oh. Ma te li sta cazzata. Scusa, grazie che tu ci mi sei staccata la... Oh. Te lo lancio, eh. Oh. Te lo lancio. Va? Ecco, di voi fanno niente, non fanno. Ecco, guarda. Si è pure staccato il led da... Alle cazzate che metti. Sei ragazzi, sei benvenuti nelle live di Agoranzolo 6, siamo in hosting anche sul canale di Krusty. Eh, Piero, come faccio a mettere la tua live sul mio account YouTube? Tranquillo, sai quanto ne ho tirate giù quando ho giocato all'Outlast? No, vabbè, ma qui le tirano giù perché devo tirare giù a modo. Io su Fortnite mi cago addosso, urlo, faccio e adesso non sto giocando. Gianni, dovresti aprire OBS, mettere la mia live di Twitch in schermata, ma streamare su YouTube? L'unico modo. Sì, vabbè, Krusty, si può con OBS. Streamare, proprio po' le... Cattura lo schermo mentre sto streamando qua, capito? Fa cattura lo schermo con OBS. Al massimo, se vuoi farlo, metti i nostri in questo canale, siccome ha fatto Krusty. Sì, Gianni, tu ti fai a stare, ho dato. Sì, sì. Ti mando una fanculo. Gianni, te lo ti mando una fanculo, eh. Ti mando proprio a cagare. Cioè, streamare... Sì, sì, ma Krusty me lo fa anche un altro mio iscritto YouTube, che molte volte streamano sul loro canale la mia live, capito? È successo molte volte, Krusty, eh. È come tu metti in hosting il mio canale, ma lì streamano sul loro canale la mia live. Capito? Dark ha detto coglione. Gianni, mi sa che sei morto, eh. Ha detto che sei un coglione. Adesso sentiamo Dark che picchia Gianni. Pum, pum. Ma vuoi capitare? Sì, capito? Si fa solo così, ma... Non... Era un trucco... È un trucco di... È un trucco su YouTube. Sì, sì, vai, vai tranquillo, che ando fra un po' io poi stacco e vengo a trovarti. Non gli puoi dire cosa male? Dimmi Dark... Lui? Non è a cagare. Eh. Gianni, muovi il culo che Dark si sta cagando addosso. Cioè... Perché Dark si sta cagando addosso? Sì, sì, ci vengo, ci vengo, sì, il fratello. Sì, ci vengo. Perché non va, Gianni? A cagare. Vanno. E Dark si sta cagando addosso. Per cui, dai, facciamo le comunicazioni di servizio. A chilometri di distanza? Non è che ora il fratello devo cagare. Lo dico io, a chilometri di distanza, capito? Va che... Cagati sotto, no? Muoti, Gianni. Poi quasi, se cagano, so, perdiamo la partita. Gianni. Va a saltare. Dopo tutti a me da crusti, eh, ragazzi. Oh. Chantal, finito? Ho detto basta. Alla terza di l'angelo mi chiedo fuori, eh. Già due volte l'ho detto. Ho fatto basta. Ah, se ti va, poi passa su Telegram. Dove posso praticamente... Eh, no, si parla tra fratelli. C'è un fratello ha accesso in chat. Un fratello che sta giocando con me su Xbox. Devono... Uno è accesso, uno deve cagare. E a mille di distanza mi mandano i messaggi per dirsi. Non è che puoi parlare, fratello. Oh, mi sto cagando, muoviti, no. Mi avviso a me. Eh beh, ormai è così anche. Questa è live. Poi c'è la vita che i bambini facevano... Ebbene, vedi, visto? Clast, nel mio canale queste cose qua succedono. E mica è normalità qui. E qui è tutto anormale. Poi il fratello che risponde dal cesso a me, che devo dirglielo a lui, per cui pensa un po' che comunicazione di merda. Una comunicazione di merda proprio. Ecco, vedi, Gianni dice... Cosa? Stai cagando, è dark? Dalle due. Chi sta cagando? Gianni dalle due. Eh Gianni, escolti, i pulligotti. Fatevi un'altra parte per farlo. E due cagando. Eh Gianni. È lunga questa cagata. Sono leoni. Minchia. Un tuono, sentiva. Ecco, se lo porti là, vai, oggi è morto. Sei morto? Dopo lo porti. Lo porti. Dopo. E dopo lo porti, vedi un po'. Bene, qua parliamo di roba seria. Ecco qui, i bambini fanno... Finché i tuoni, cavolo. Sì, i tuoni praticamente è coso. Ecco qua. Ciao Dani, ci sentiamo. Ciao. Ciao Dani. Ciao Dani. Oh, che meraviglia, che meraviglia. quando vi tucco fa... Senti come ti piglia, come ti piglia. Ciao ragazzi. Cinque, five. Sempre che ho fatto questo, i migliori siamo noi, ragazzi. Tutti insieme. Siamo una grande squadra. Dai raga, pompiamo questa live a milioni. Qui, sentiamo i bambini che fanno. Ecco qua, i bambini fanno... Ok? Li sentiamo dall'aldilà fare... Oh ragazzi, avete pazienza. Oltre a vedere giocare a Fortnite, qua c'è anche altro. Vai, vai. Perché Hulk c'è? Oh, Hulk. No, non l'hai preso. Per poco, perché si è chiuso, cazzo. No, non si è chiuso. Ma no, George Kesson... Scusa che si è secondo me. Sta. Oh mio, che sonno ragazzi. Che meraviglia. Merda. Che va là dentro? Tutto scoppiando, tutto scoppiando. Quando i bambini bestemmiano... Che meraviglia, che... Tutto a quarto. Già da... Già da terzo ci è stato. Tutto è... Uomo, uomo, si... Certo, anche lì. Fibola fig... Via del... Dottore. Qua non... La, 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 bastardo. Eh... Volevi. Ecco, va. Uomo, uomo di fronte. Eh, vabbè, buono, buono. Eppure forte, ragazzi. Eppure inseguimi combattendo. Ma perché è ottava la squadra? Perché su tutte le squadre è ottava di Watson. E seppre si va a rinunci. Su tutte le altre, capito? Ne mancano una. E poi danni con pistole. E fate 5, in teoria. Eh, Dark è... Eh... Espelli a Dani. Dark è... Espelli a Dani che non c'è più. Non fai l'immagine, Antoine. Gero, mi sta scorgendo. Finisci, la, 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 la... Va? Gero. Oh. Ho definito la storia di un colpo. Preparati. Non ho fatto niente. Dici? No. Ma la mia, la mia, la mia. Lo disco. Con un bambino i fanno un po' Che sono un figlio. Ma il colpo fa... No, non mette quella. Va? testa di minchia è una bella live ruttano, cagano si mandano i messaggi dal cesso che cazzo fa Gianni dal cesso dalle due? ma che ne so Gianni si preoccupa se vai a pinnacolo nel fiume c'è una cosa mi si è buttato mi si è buttato il cazzo qua c'è una mappa aiutami di cosa? i paperelli lì e ce ne mancherebbero c'è gente con noi due mi ho preso guarda quanto avete i paperelli dieci ne mancano dieci cosa? due mi ho preso forse le mancano eh ma in tutta sono dieci stanno cavolo legno tegoli in legno tegoli in legno anche tu eh la ci pretendi stai ma in Cina ciò che vedi non è mai come lo vedi anche caramella qua sushi eh quando sei in cina sai che compri ciò che non sai il cinesio lo fai eh c'è le burde erano di legno sentai con il legno non l'avessi parlato sulla spesa anche tu eh va qua davanti poi c'è qualcosa nella casa no che cosa c'è tu un cazzo è sparito Luca eh si è uscito o si è aumentato è che non manca mal di testa 5 prendile non mi dispiace non è calma per te bastardo paparella dove dove è la paparella dove è la paparella mi ha visto la paparella non è la paparella non è la paparella non è la paparella non è la paparella che cazzo eh è più del mondo oh Gianni mi sta ostando grande Gianni grazie Gianni che cazzo fai pietre è acqua quella schiuma quella cazzo pietre dove qui che sei lontano a vita è ancora casino eh eh ma non conta come non conta scherzo sì c'è la cosa la papera sì Vito sotto la cascata deve andare verso che sapevo verso la fine del coso del fiume gira a sinistra e la trovi in fondo ok perfetto no a sinistra Vito l'altra parte l'altra parte Vito aspetta vado guarda che la prende Vito la paparella aspetta aspetta oh Dork aspetta un attimo che guarda questa casa e c'è qualcosa di interessante e c'è no non c'è no 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 sei un coglione minchia io paperino ce lo farei in un caso qua hanno quattro gialla guarda su guarda cos'è munizioni bella e là la bomba là un M4 verde vantala subito e beh minimo è lontanissimo Dark ma chi sei ta 5 dai ragazzi così continuiamo andiamo il picco dai 7 grande raga grande 3 5 7 3 3 yeah bella ragazzi siete il massimo grandi 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 7 oh state usate svegliate dammi la carica eh cazzo dai ragazzi dai su 7 8 9 10 salutate iscrivetevi al canale se vi siete iscritti fate come volete bellissimo dai 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 su su voglio in tanti ragazzi in tanti ha sparato in caso ma lei lo ha tirato in zona per un cazzo appunto da tira si fermano quindi facciamo anche il tempo ad arrivare noi e dite Gianni che è io cazzo è io is e Gianni is now oh ciao Matt Wolf Lion Wolf Lion grande grazie grazie per essere passato grazie mille ciao grande 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 uno dei pochi che porta giochi con le palle grande Wolf Lion oh sotto è pieno 3406 anche lì 9 9 ragazzi bella ragazzi 9 siamo bellissimo grazie raga come sempre sempre emozione grazie a voi occhio grande ragazzi 9 bellissimo così bellissima la storia no vieni mi è mosso ti è mosso scusa dai dai ragazzi su arriviamo in 10 arriviamo dai cosa aspettiamo come ieri 11 dai dai siamo per valere mille visual siamo indirittura per i 100 iscritti ma dai non possiamo che continuare a salire scusa sto cristo di m4 che ce l'hai il porco giro che fai a cagare a cerchino dio santo ora sto spento il cellulare ma di cazzo di minchia il cellulare è questo dai raga dai su saliamo minchia ce l'avevi in testa ce l'avete fottuto c'è il mondo ho leggermente paura io c'è il mondo lì là là minchia è pieno 42 team ci sono qua dentro vediamo un mago come entra che hai fatto ma che devi voler così pazzo sei un pazzo non pensavo di farlo che lusso che lusso ragazzi che culo ah non so gli altri sono morti stai scherzando no finca è sfiga cazzo lo so è lontanissimo la giampa che culo y mai prendi la giampa e poi prendi quello là il falò che cazzo ecco ecco anna anna agnese che voleva chiamato sì la cosa ragione è è tosse da poi andava a comprare lo sono con te di con 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 l'angese è di tanto che la chiamata rossa non di quanto a quale no mamma oia oia basta vedi com'è è strano questo dai basta eh di là di là di là di là bravo quasi tutti gli altri bassi non viene salute ma non mi sento c'è un team sai cosa è un team minchia si domani t'ha visto come ha fatto a colpirmi il cazzo è culo eh come ha colpito culo culo chiamato culo quello mica preciso ha avuto culo c'è un teamato così così infatti che non capisci anche tu lo cazzo sono là dietro lì hai visto là là uno due un altro sulla sinistra 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 un altro carburo là via no aspetta eh stavo così impara stanzi bene 8 di vita che minchia oh 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 la 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 ci pezzò perché trac perché trac perché trac è una sfida ragazzi è una sfida togli togli il metitore porta sfiga fidati ecco metti carburo metti o carburo o le graffitaro carburo invece il suo cosa no no cambia le altre cose niente ok bravo ecco bravo quello bellissimo va bene cos'è l'altro il blu il blu è tornato scarsi lui che è tornato stai dormendo sei incollassato e le Gianni is now hosting you grazie Gianni grazie continua a starci Gianni no erano cinesi ah bene bene Gianni continua vedici i nostri grazie 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 signor Gianni ma mai ancora in live sono me ne ha tre hai visto mei sono nove minchia no noi grazie ragazzi in nove siamo grandi grandi ragazzi dove andiamo bella 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 e Gianni continua a starci grazie ragazzi abbonati per canale donate 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 donato ebbè è vero come si è entrata la pompa la botta ha dato nove siamo in sei adesso bene ragazzi bene così mi piace due mi piace ma ormai la battaglia come si è entrata tutti ebbè tutti e tu le portati purtroppo ormai la battaglia sta vincendo dovrei essere a mille visual in teoria già dovrei essere arrivato a mille visual traguardo che non mi aspettavo non mi aspettavo così vicino ti sto oh grazie 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 Gianni grazie ho stato con due canali bravo puntiamo come ti hanno mai donato e su youtube si twitch no non ancora ma arriveremo che doneranno dark diventerò più povero di prima adesso ti bannano il canale no grazie no così sì no ok dark adesso tranquillo che cresce e basta che basta costanza sì sì bravo bravo ma poi con la gente che c'è su twitch è migliore molto meglio no guarda il bannano del canale non lo voglio vi prego grazie ragazzi con dark dove fare una missione 7 forzieri è in un posto 7 forzieri che ce l'ha con chi allora è dark che ce l'ha con chi si è gente ce le rompe e poi dai su ragazzi arriviamo a 15 se non lo vuoi potete farlo siete grandi oggi a giocare a salvamondo mi era rincoglionito tu corri vedo un gespuglio raccoglilo anziché romperlo oddio mio che lag cristoforo colombo minchia 380 sto andando minchia è veloce allora non hai che rischi la multa c'è gente sopra attento è nata non fa ok ha fatto fuori non ha fatto un cazzo ha chiuso qualcuno ha chiuso Jay ha chiuso dai ragazzi su su ti voglio stupefacenti meravigliosi riuscivi vedo la pozzetta beviti la 25 mi scudo chi è che in casa mia butti zingali stai rubando ho gli zingali in casa cos'è? ti donano 50 euro magari ti donano 50 euro se mi dono 50 euro urlo come un pazzo svengo ho chiuso l'ho tirato con la bomba figa eccoli eccoli io andrò a sacrificarmi frutta negra frutta negra ecco qua frutta negra ecco qua mi raccomando non sono razzista munizioni perché pensavo minchia che munizioni il lanciarazzi non fico il culico il lanciarazzi abbastanza minchia bella che hai visto? stai rompendo la recensione? cosa no aspetta cammina stai rompendo qualcuna jump se passi nel ruscello c'è le cose di pinnacoli si ci passi ci passi ci passi proprio e prenditi il papagallo che si chiama lì il papagallo che caso prendiamo qualcosa prendi ma se non ti è tutto in zona di acqua bagno scusa paperelle sono grandi allora secondo me la prossima season mettono gli orsacchi ottimo il paperello gli orsacchi mettono mettono a te a te mettono la tua faccina immagini la prossima web la voglio con l'effetto green screen il green screen mettiamo appare mettiamo dietro mettiamo i scisci i scisci i scisci no il fortnite dietro mettiamo i scisci qua sotto qua sotto ok qua sotto lo sai ok ok buono voi che stai qua sotto ma qui all'angolo buttati ragazzi vai qui sotto ho detto sto scazzando vai ragazzo si è spostata ad anche era lì dietro si allora come arriva la tempesta minchia vito corri io ho tre medici a chi serve pure me lo vito ah anche il bianchi vito per prendere la paperella e come arrivi da un avvito di chi il medico tanto toglie poco il primo vero si io lo toglie ok vito esco di qua il medico finchia affilo proprio beh fate questo e poi chiamola live tanto possiamo dire che puoi sapere come stai a fare live ah ti ho messo le due si alle due buone raro due tre cioè tre ore va bene aspetta perché si ha qualcuno che fa per noi aspetta mannaggia ai mitocondri che fa se il mitocondri non lo so allora qualcosa del corpo umano che tipo se ti 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 mi sembra non vorrei sbagliare si la cotoletta minchia è caduto un coglione è caduto la stanno foetando stanno crescendo delle cose guarda foetando 75 ci dobbiamo dobbiamo si ma dai intanto moriamo tipo poi no quindi qua sotto uno anche ce n'è come va ok adesso sto per spegnare ecco qua she baby hill di amore di amore di amore ragazzi vi aiuto? ragazzi 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 da jump comunque c'è un attimo a jump Oddio Eccoli Bastardi Anche Vito Un po' come va che è andata Mi sa che questa parte è andata Ok chiamola live ragazzi Bella bella bella